Per celebrare il 750esimo anniversario della nascita di Dante Alighieri, la Fondazione Credito Bergamasco organizza un fine settimana con Dante Alighieri. L'Inferno, weekend d'arte nel segno della divina commedia tra pittura, letteratura, musica. Sabato 7 e domenica 8 novembre presso il Palazzo Storico del Credito Bergamasco. Vi aspettiamo a Bergamo. Largo Porta Nuova 2, ingresso gratuito. Per info www.fondazionecreberg.it